Cerignola contro Giuliano di nuovo di fronte al Monterisi. L'appuntamento è fissato non più per sabato 4 maggio ma per martedì 7 maggio alla luce dello slittamento dei playoff di Serie C per il ricorso presentato dal Taranto contro il meno 4 in classifica. Cerignola contro Giuliano dunque, stesso abbinamento dell'ultima sfida della stagione regolare quella vinta per 3-0 dagli Ofantini, quella che ha permesso alla squadra di Giuseppe Raffaele di raggiungere addirittura la settima posizione in classifica in grado di garantire il fattore campo all'esordio negli spareggi per la Serie B. Abbiamo avuto l'approccio che desideravo perché era il primo esame dopo essere entrati nella griglia, dopo una vittoria per certi versi che poteva farci perdere un po' di lucidità in questa partita e invece ragazzi ne abbiamo parlato in settimana e sono stati bravissimi a capire che questa era una partita che dopo la vittoria di Foggia diventava decisiva sia per la matematica per i playoff e anche per provare come poi è successo ad agguantare la migliore posizione in classifica che ci fa giocare il primo playoff in casa. Tra vittorie di fila a chiudere la stagione regolare, 13 punti ottenuti in 7 gare per il Cerignola dopo l'arrivo di Raffaele in panchina, rendimento importante che ha scongiurato anche scenari opachi ad un certo punto. Infatti gli Ofantini hanno dovuto dare uno sguardo anche a quello che accadeva in basso. Era normale parlare anche di salvezza perché avevamo tanti scontri diretti, come vedete oggi la salvezza è stata a 44 punti. Quindi, quando le cose non vanno bene, all'improvviso ci si può trovare pure in situazioni complicate con una squadra che non era abituata neanche mentalmente a pensarlo di poter si trovare in quelle situazioni. Una volta trovata la chiave perché è stato così, i risultati sono venuti di conseguenza a quello che abbiamo fatto in allenamento. Quindi la mia soddisfazione è doppia per il gioco, per i risultati, per la situazione di classifica che abbiamo ottenuto alla trentottesima. Adesso mettiamo tutto da parte, non mi piace imbrotarmi perché è vero che secondo me abbiamo fatto veramente molto molto bene, però adesso comincia un altro campionato dove desidero fare ancora di più. Non parte con i favori del pronostico, ma non si pone limiti. Il Cerignola vuole stupire anche i play-off a partire dal primo incontro con il Giuliano. Dobbiamo ragionare gara per gara e mettere il massimo nei 90 minuti, questo assolutamente. Facendo questo abbiamo possibilità di giocarcela alla pari con tutti. È normale che le favorite per i play-off sono altre squadre, chi è arrivato secondo, chi è arrivato terzo nei vari gironi, chi ha allestito organici senza battare la spese per vincere il campionato e chi ha avuto continuità per tutto il rendimento. Noi dobbiamo sfruttare una grande cosa che è l'entusiasmo di venire da dietro e di avere chiuso il campionato in maniera convincente con le prestazioni, con tre vittorie di fila, di avere recuperato tanti giocatori determinanti per questa squadra nell'ultimo periodo e quindi dobbiamo vivere di entusiasmo.